I cavalli tornano a città di Castello a due passi dal centro storico nei luoghi più cari a Etifernati e ricchi di arte e cultura. Sabato 9 e domenica 10 settembre al Parco Comunale Alexander Langer si riannoderanno i fili di una storia lunga oltre mezzo secolo con le possibilità di oggi ma con la forte voglia di andare avanti e scrivere una nuova storia. La mostra nazionale del cavallo riabbraccerà gli appassionati per due giorni tra divertimento, tradizione, curiosità e sorprendenti momenti da vivere insieme. L'eleganza dei corpi, le criniere al vento, il rumore degli zoccoli parleranno al cuore e faranno sognare il pubblico di tutte le età. Quest'anno con l'obiettivo di coinvolgere e rendere i protagonisti gli appassionati della città e della ballata. Per questo saranno ancora più aperte le porte alla partecipazione di chi con il cavallo lavora, fa sport, si diverte, a cominciare dalle scuole di equitazione del comprensorio che saranno protagoniste della rassegna insieme agli allevatori locali. In programma esibizioni equestri in primo piano e tanti momenti alla scoperta del mondo dell'allevamento e delle tradizioni militari cavalleresche, del fascino della monta da lavoro e della magia dell'incontro tra i bambini e poni, della meraviglia del trekking in un ambiente naturalistico unico come l'Alta Valle del Tevere. Da sempre grande amico di Città di Castello e della Mostra, Nico Belloni sarà alla guida dei grandi talenti nazionali e internazionali dello show a cavallo nei due gala notturni in programma sabato e domenica, mentre di giorno nel segno della valorizzazione degli artisti locali ci sarà da divertirsi con le evoluzioni firmate da Luca Giorgi del centro ippico di Userna.